...all'ottanta per cento e così via. Poi gli tiri e gli dici, ma sei un mongolo, così via, so già... No, parte a manetta, fa troppo forte, si fa... No, ma porchè? Sempre! Tu guarda l'ultimo che di questo è già da due fiammi... Quest'anno ha fatto clip, ha fatto clip... ...ha fatto clip... ...ha fatto clip... ...ha fatto clip... ...ha che sì!